7.42, siamo allora pronti per scoprire quella che sarà la nuova attrazione turistica di Bologna. A 54, o anzi 56 metri d'altezza, c'è il nostro Antonio Farnè. A te la linea, Antonio. Sì, Fulvio, un abbraccio a Bologna dall'alto. Lo si può dare da quassù, da 56 metri d'altezza, da questa terrazza artificiale ricavata sulla Basilica di San Petronio, grazie alle impalcature montate per i lavori di restauro e di manutenzione dell'Abside. Vista da qui, Bologna si offre a 360 gradi, un panorama davvero spettacolare, soprattutto nelle giornate di cielo sereno come quella di oggi. Sono immagini in anteprima, la terrazza infatti verrà aperta al pubblico nei prossimi giorni. È un regalo alla città, qui con noi c'è Gianluigi Pagani, Presidente dell'Associazione Amici della Basilica di San Petronio. Pagani, si tratta di una doppia opportunità. Spieghiamo perché. È un'opportunità innanzitutto per i bolognesi e i turisti di vedere per la prima volta Bologna dall'alto. Abbiamo già avuto l'esperienza del ponteggio su Piazza Maggiore, che ha riscosso un grande successo. L'abbiamo voluto ripetere qui, in questa zona, dell'Abside di Piazza Galvani. L'entrata sarà da Piazza Galvani. Dobbiamo fare lavori di manutenzione del tetto, dell'Abside, di alcune cappelle interne. Abbiamo costruito allora questo ponteggio, che ha un comodo ascensore, scale comode per permettere a tutti di poter visitare e vedere Bologna da 56 metri d'altezza, sia nella parte posteriore, da Piazza Galvani verso i Colli, sia nella parte anteriore, perché si vedono le due torri, Santa Maria della Vita, Via dell'Archiginnasio e tutta la zona di Bologna. È veramente un paesaggio stupendo, meraviglioso. Grazie a quel piccolo contributo che viene chiesto al turista o al bolognese che viene a vedere, 3 euro a biglietto, abbiamo la possibilità di contribuire ai lavori di restauro della Basilica, che è la sesta chiesa più grande d'Europa. Quindi vi potete immaginare i costi per la manutenzione del tetto, dell'Abside, delle cappelle. Quindi grazie a coloro che verranno a visitare questo ponteggio, sarà possibile anche fare i lavori di restauro. Che caratteristiche ha questa terrazza? Allora, siamo a 56 metri d'altezza, ci sarà la possibilità per 25 persone in contemporanea, per motivi di sicurezza, di poter salire fin quassù, ci sarà l'ascensore fino al secondo piano, poi due piccole rampe di scale, si arriverà in cima, tutto protetto, quindi anche i bambini potranno venire in assoluta sicurezza. Da qui su si può vedere, si possono fare le foto, ci saranno anche dei cartelli che indicheranno i vari monumenti, in modo che la visuale possa essere anche in qualche modo aiutata, perché è difficile da qua su riconoscere quali sono le esatte chiese. Intanto Pagani, diamo un'occhiata anche alla parte sud della città, la zona collinare, si può ammirare anche la Basilica di San Luca, un altro simbolo della città di Bologna. Torniamo però alla Basilica di San Petronio, intitolata al Santo Patrono di Bologna, come ha detto lei è la sesta chiesa più grande d'Europa, è un simbolo riconosciuto di questa città, un simbolo storico, oggi abbiamo scoperto questa terrazza Pagani, presto però San Petronio offrirà un'altra sorpresa. Assolutamente sì, grazie ai lavori di restauro riusciremo a far vedere ai bolognesi per la prima volta, da quando la Basilica è stata costruita, il sottotetto, cioè per l'intera estensione della Basilica abbiamo la zona sopra le volte, con un camminamento che da Piazza Galvani raggiunge Piazza Maggiore, due finestre, una su Piazza Galvani e una su Piazza Maggiore, si potrà vedere anche lì Bologna dall'alto, da oltre 60 metri, in questo camminamento ancora sui legni del 1300, del 1600, poi successivamente ristrutturati, ci sono i vecchi argani che servivano per mandare giù i drappi durante le celebrazioni eucaristiche, ci sono le scritte sui muri del 1300, del 1600, quando i muratori venivano quassù per costruire, scrivevano nei muri, quindi abbiamo ancora queste vecchie scritte, un camminamento in legno all'interno delle scale che adesso stiamo mettendo in sicurezza e dai primi mesi del 2016 sarà possibile vedere anche questa zona assolutamente sconosciuta, assolutamente straordinaria della Basilica di San Petronio, il sottotetto della Basilica. Insomma la Basilica di San Petronio si mostrerà in tutto il suo splendore, come da qui da questa terrazza, Bologna si mostra davvero in tutto il suo splendore, noi oggi siamo stati fortunati, presto però chiunque avrà l'opportunità di ammirare Bologna da qua su, da 56 metri d'altezza e godere di un panorama davvero mozzafiato. Da San Petronio è tutto, linea allo studio. Grazie ad Antonio Farnè, non perdete anche gli altri servizi nel corso dell'edizione delle 14 del nostro telegiornale. 7.47 è tempo però di dare uno sguardo alla...